no ma va alle 8 ecco tu fai così 5 litri di benza 2 da lasciare e 3 da portare hai visto come tu lo fai così arriva lì la moto vedi che arriva contro e dopo non ti va su più devi proprio la sua l'ha ruggata sul vertigo se no non andava su neanche lui arrivi come arriva lui un po' troppo e la tua ti aiuta perché vedi che tu mi hai poi saltato asciutto devi arrivare un po' più lineare invece arrivi così troppo alto il davanti sei meglio prima si vuoi troppo indietro l'invito dai stavo e va su, va su col mono cosa sta? andiamo andiamo di là all'ombra che ci sta brustolendo guarda è tre quarti d'ora che ce l'ho qua ma permettiti da ciucciando sangue una farfalla vampiro sta cercando il green pass che aperitivo? presto andiamo giù un po' all'ombra andiamo all'ombra e va via il sole meno male di lato cara, cara fai il bravo dai, fai il bravo ah beh, quello ci sta sempre ecco, a posto ora si che ci sta ora, cara guarda che arriva anche la poiana a vedere se ti mangia cazzo, va che spettacolo vai, mi sta battendo le mani perché gli ho fatto le carezze spettacolo